Pineapple Poker, regole del gioco variante del Texas Hold'em Direttamente sul campo, o per meglio dire sulla piattaforma Casino di Venezia Malta, ha visto la luce una nuova fantastica modalità di poker, il Pineapple Poker, con tutti i requisiti per far appassionare gli amanti del Texas Hold'em e dell'omaca poker. Ma cos'è il Pineapple Poker? Si tratta di una variante del poker molto simile al Texas Hold'em, con una differenza che lo rende maggiormente intricato. Infatti, durante la distribuzione delle carte, ogni giocatore, invece che ricevere due carte coperte, ne riceve tre. Successivamente, tutti coloro che giocano sono invitati a scartare una delle tre carte ricevute e a partire da quel momento il gioco prosegue con tutte le caratteristiche del suo illustre padre. Nella versione standard del Pineapple Poker, quindi, i giocatori scelgono quale delle proprie tre carte scartare una volta terminate le puntate nel pre-flop, prima dell'estrazione delle tre carte del flop. Esiste un'ulteriore variante, denominata Crazy, in cui i giocatori scartano una carta appena terminate le puntate, nella fase di flop, e prima dell'estrazione del turn. In più, se non viene effettuata una scelta entro il tempo limite, che ha una durata pari al tempo concesso per scommettere, si deve scartare in automatico la terza carta distribuita. Il Pineapple Poker e il Crazy Pineapple Poker sono disponibili già ora sulla piattaforma del casino di Venezia Malta, soltanto nella modalità Ike Only, ossia con la mano più alta che vince tutto il piatto.